www.feyyaz.tv 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci nascondiamo, bisogna puntare a vincere il campionato, bisogna vincere il più che possiamo, siamo in tanti, abbiamo un bel gruppo, oggi c'erano fuori 4-5 giocatori che in altre squadre potrebbero anche giocare titolare. Di conseguenza bisogna vincere con forza l'Ordalia senza prova sicuramente e puntare a vincere il campionato. Allora abbiamo il capitano del Framura, un commento sulla partita di oggi? No, è stata una partita diciamo poco equilibrata, loro hanno giocato meglio, hanno vinto meritatamente, è risultato diciamo magari un po' pesante, poteva starci magari un po' anche da parte nostra comunque va bene così ci rifaremo. Sì anche perché non era certo l'avversario di oggi quella con cui dovevate fare pure. Sì noi contavamo di venire qua a fare un ricordato positivo ma abbiamo già messo in preventivo che poteva essere una sconfitta, non è la partita della vita, ci rifaremo. Abbiamo visto anche le reti che hanno permesso a Laruentes di vincere e continuare il suo cammino in testa della classifica a punteggio pieno. A proposito di classifica andiamo a vedere Laruentes in testa, 24 punti, 16 per l'Atletico Casarza, 15 per il Boca Gastaldi, 14 per il Carasco insieme a San Pier di Canne e Riese, 13 punti. Montepena e Locorecco, 12 per la Renelle, 9 per il Monilia insieme alla Junete della Pallo, 7 per il Portofino, 6 per il Valle 2008, 5 punti per la Framurese insieme al ricalcio. Chiude la classifica con 4 punti il Carvei, ricordiamo che Carasco e Framurese hanno una gara in meno, una gara della settima giornata, avrà recuperata martedì 22 novembre alle 20.45 in colmata. A Chiavari, classifica a marcatori che vede Giberti del Carasco in testa con 11 reti, 10 per Zaghetto della Renelle, 6 per Bacigalupo della Renelle, Congio del Portofino, Tognari dell'Atletico Casarza e Tripoli della Riese, 5 per Devisi del Boca, Malerba della Ruentes, Prado del Carasco, Rea del Montepenna, 4 reti, Gallo dell'Atletico Casarza e Pelosin della Ruentes, altri 12 giocatori a 3 reti, 26 giocatori si trovano a 2 gol e 54 giocatori ad una rete. Il prossimo turno vedrà lo scontro fra l'Atletico Casarza e la Riese, quindi una gara di alta classifica con l'Atletico Casarza che è al secondo posto, come abbiamo visto in precedenza, la Riese si trova anche lei nei piani alti della classifica, società nata solo quest'estate ma che sta facendo molto bene. Poi Framurese e Ricalcio, Locorecco Carvai, Montepenna-Ruentes è un po' il big match della decima giornata del campionato di terza categoria, le telecamere di Levante Sport saranno sicuramente domenica pomeriggio al San Martino di Cogorno per seguire la gara fra i due tecnici, Mister Sanguinetti del Montepenna e Davin della Ruentes, vedremo se la formazione di Santa Maria del Taro riuscirà a fermare il cammino della Ruentes, poi avremo anche Portofino, Arenelle, San Pier di Canne e Carasco, questa è una gara fra due formazioni che stanno facendo molto bene, sia il San Pier di Canne, società nata nella passata stagione, che il Carasco, poi United, Rapallo e Moniglia e chiude la decima giornata, Valle 2008, Boca-Gastaldi. Anche per quanto riguarda la terza categoria è tutto, vi ricordo che potete andare a rivedere tutto quello che vi siete persi, sia su Facebook, sul gruppo Levante Sport, sia su Youtube, sul canale Levante Sport TV, l'appuntamento quindi va alla prossima settimana con il pacchetto tutto prima, tutto seconda e tutto terza.